Oktar 8000, Oktar 9000 e Lady Bella vi salutano Gli Oktar futuristici con anche la cosiddetta sorella di Oktar futuristica, Lady Bella E allora diamo inizio di nuovo al nuovo spettacolo di merda Mondo 2 parte 4, questo spettacolo di merda avrà inizio adesso, partiamo Partiamo Avete notato che diciamo sempre le parolacce un po' timonente Wow, ma io le dico dalla mattina alla sera Io invece le dico 7 volte al giorno Oktar 9000, le dico 7 volte al giorno E anche di più Ma no Eh, me lo apri adosso Dai che capis Sveglia Aspetta, qua c'è un cubo No, niente Solo una grande Lancio Lancio il pou Scusa ma qui ci sarebbe qualcosa sai E' bello No Ecco Sì, lo so Grande Eh, volevo dire che sto Raga, avrei intenzione di mettere qualcosa di un po' più comico sull'autore Forse si parli un po' più forte qualcuno ti sente Lo so, mi voglio scusare appunto di questo Che nei video finora ho parlato troppo piano io Cioè, 8 9000 Esatto Nio e poi No Aspetta Ah, niente Eh, tutta questa cosa mi ha ricordato un po' Donkey Kong Visto che trucchetto Il tuo cervello è un Donkey Kong Il tuo cervello invece è come quello di funghetto F**k you b**ch E' come quello di funghetto che sarebbe il nome italiano di Totten E vai F**k you b**ch Ma f**k Io vuoi sei qua Madonna No No Ma no Pernino Maraviglia E io non ho ancora avuto potenziamento Vabbè, la rendiamo E il Nino Maraviglia Alexis Sanchez Dovevamo stare qua Eh, sapete che sport fanno Octar 8000 e Octar 9000? Calcio Eh, sì, io faccio calcio, tu fai il misterioso hip hop Vaffanculo Non starete ad ascoltarlo No Allora, Octar 8000 fa calcio E Octar 9000 fa hip hop E anche un po' di corsa Sì, beh, corsa Corri da solo Non lo fai come sport, forse Si che è uno sport Ok, ma non lo fai con le squadre Non vai a fare le gare come io che sono che lavoro e vivo con la scuola Con le cose lì Ma secondo te che cosa serve? Oh mio Dio Ecco No Eh, vai Ma come si fa qua riporto? Basta semplicemente voler fare ciò che segue la coscienza Vorresti andare a prendere la moneta stella? Si, ma tu vai là sopra Ecco, questo che vorremmo sentire Grande assoluta Ora Si, ma tau Guardi Luigi, non siamo ancora morta Tu sei WTF E tu invece sei unazą Grande per poco non facere degli un A tre Fuck you bitch Quindi per моil E abbiamo finito anche questo livello Il mio gattino sta guardando la tv Se salta lì sopra dovrò tirarlo fuori Chi andrebbe di tirare il nome con cui l'abbiamo chiamato? Con cui l'ho chiamato Cagnolino Io invece l'ho chiamato Fortunato Ok ragazzi vado Andiamo tutti Ciao, ci vediamo alla prossima